Macro categoria studi e boutique legali e professionali. Categoria diritto del lavoro. Il premio è boutique di eccellenza dell'anno diritto del lavoro relazione industriale e contrattazione collettiva e andiamo a leggere la motivazione per rappresentare da sempre un punto di riferimento nazionale per l'assistenza specialistica in ambito gius lavoristico per l'innovazione nell'approccio l'elevata assistenza e la competenza che rafforza il valore del contributo professionale a disposizione dei propri assistiti. Il premio va a Studio Legale, Marazza e Associati. Saluto in collegamento con me Domenico De Feo, socio dello Studio Legale, bentrovato, grazie per essere qui. Grazie, bentrovati a voi. Siamo molto soddisfatti di questo riconoscimento e ringrazio anche a nome del mio collega Marco Marazza e di tutto il nostro studio. Grazie. Grazie, infatti la mia prima domanda, ma giustamente l'ha fatto da solo, sarebbe stata questa, un commento a caldo sul premio e a questo punto le faccio un'ulteriore domanda, proprio perché questo premio arriva anche, insomma, se mi consente in un momento decisamente particolare e storico per il nostro paese. E allora, rifacendomi un po' anche alle parole che abbiamo ascoltato nella motivazione, ce ne sono alcune che rappresentano al meglio anche questo momento e questo momento particolare. Cioè, un punto di riferimento, siete voi, un punto di riferimento nazionale per l'assistenza specialistica naturalmente e poi si parla di innovazione nell'approccio. Ecco, le chiedo qualcosa di più rispetto a quelli che sono i vostri obiettivi. Sì, beh, io penso che questo difficile momento che stanno vivendo le imprese e in generale il mondo del lavoro richieda un po' una ridefinizione della figura dell'avvocato giuslavorista, che deve un po' orientarsi, e questo è anche un po' l'aspetto innovativo di cui parlavamo, nel ampliare i servizi che vengono dati alle imprese. In quest'ottica di ampliamento noi abbiamo ritenuto utile e importante, dando un approccio interdisciplinare alla nostra materia, affidarci anche, allearci anche con uno studio di consulenti del lavoro per cercare di dare alle imprese un servizio integrato di assistenza, che investa anche aspetti quali il labor costing, aspetti fiscali e previdenziali, e che possa quindi supportare a 360 gradi le nostre assistite. Infatti, infatti, l'elevata assistenza, abbiamo ascoltato questo nella motivazione, un'ultima cosa, insomma, perché in un contesto come quello che stiamo vivendo, sarà retorico dirlo, ma insomma non più di tanto, sono cambiate anche le esigenze, quindi è importante stare al passo con questo cambiamento. Sì, è proprio così, bisogna adeguarsi, adeguare l'organizzazione, avere riguardo ai mille problemi che si creano per effetto della disciplina emergenziale. Proprio in questo l'avvocato giuslavorista deve intervenire adeguando la misura e l'approccio ai problemi in continua evoluzione delle aziende. Insomma, io non posso far altro che complimentarmi con voi, naturalmente con lei e con tutto il suo team che, insomma, ogni giorno lavora in questa direzione. Grazie a voi, veramente. Grazie, grazie a Domenico De Feo, socio dello studio legale Marazza e Associati per questo riconoscimento. A presto. Buonasera.